genetica che sono concetti che si studiano anche a scuola in genere ma che spesso vengono diciamo un pochettino relegati come una cosa a sé, mentre invece quello che cercherò di far capire è come invece l'evoluzione sia fondamentale per capire qualunque aspetto della biologia e che quindi per aspetti teorici, quindi per comprendere la diversità della vita che è quello che studiano zoologi, botanici eccetera, ma anche, parleremo un pochettino più alla fine, per aspetti un attimino anche più pratici appunto che riguardano anche più diciamo l'interesse del pubblico. Quindi sì, direi che quindi adesso sette minuti si può iniziare. Quindi prima di tutto partirei dicendo che cos'è l'evoluzione. Quindi l'evoluzione è il cambiamento graduale, ereditario, quindi di generazione in generazione, delle caratteristiche di una popolazione che porta all'apparizione di nuove forme. Ora generalmente, nel senso più generale, ovviamente quando parliamo di evoluzione diciamo l'apparizione di nuove specie, ma è anche evoluzione l'apparizione di altre strutture anche più in scala più piccola, quindi la formazione, l'evoluzione di nuovi organi, di nuovi tipi di cellule, di nuovi tipi di molecole organiche che vengono utilizzate dagli organismi. E per iniziare a capire come funziona l'evoluzione dobbiamo partire dal fatto che l'organismo ha bisogno di risorse dall'ambiente per sopravvivere. Quindi tutti gli organismi hanno bisogno di risorse che devono prendere dall'ambiente e che possono essere cibo, acqua, luce per esempio fondamentale per le piante, spazio, quindi territorio, rifugio eccetera eccetera. E queste risorse in natura non sono illimitate. Quindi sulla terra le risorse non sono illimitate, questo significa che le popolazioni di organismi non possono crescere infinitamente, poiché appunto a un certo punto mancano le risorse. Inoltre ogni organismo non si trova in una bolla ma è inserito in un ambiente che comprende sia l'ambiente fisico, quindi le precipitazioni, temperature, le caratteristiche fisiche dell'ambiente per farla molto breve, sia l'ambiente che viene detto biotico che include gli altri organismi con cui un singolo individuo si trova a condividere l'ambiente fisico appunto. E questo ambiente non è stabile nel tempo ma cambia continuamente. Ora noi conosciamo e sappiamo che se pensiamo appunto a grandi mammiferi i cambiamenti fondamenti importanti sembrano essere molto sul lungo periodo, quindi l'ambiente varia nel passare di anni o decenni o centinaia di anni. Ma se prendiamo invece animali anche più piccoli, se prendiamo un insetto, il cambiamento ambientale può anche essere un periodo di acquazzoni particolarmente forte o un periodo di siccità particolarmente lungo. Quindi comunque in ogni caso quello che si capisce è che l'ambiente cambia continuamente e inoltre non ha risorse limitate per tutti. Questi due fattori portano a quella che Darwin e Wallace nella seconda metà del 1800 hanno capito e formulato, quella che viene chiamata lotta per la sopravvivenza. Quindi questa lotta fa in modo che gli individui all'interno di una popolazione, che sono tutti diversi tra loro e vedremo tra un attimo come e perché sono tutti diversi tra loro, avranno una diversa capacità in un determinato ambiente, proprio per questa diversità nelle proprie caratteristiche, di sopravvivere, di adattarsi all'ambiente, quindi di sopravvivere e di riprodursi e trasmettere quindi le proprie caratteristiche alla generazione successiva. Questo processo fa sì che quindi col passare di tante generazioni avremo individui che hanno caratteristiche vantaggiose che si riproducono di più e sopravvivono di più e si riproducono di più e quindi che quelle caratteristiche che sono vantaggiose si espandono nella popolazione. Invece quelli che hanno caratteristiche svantaggiose si vede che appunto invece avranno meno probabilità di sopravvivere e di riprodursi e quindi le loro caratteristiche diminuiranno di frequenza all'interno della popolazione. E questo come meccanismo è quello che viene chiamato selezione naturale appunto, quindi la diversa sopravvivenza e riproduzione degli organismi in un particolare ambiente che appunto dipende dalle proprie caratteristiche. Ed è fondamentale capire quanto la selezione naturale dipenda dall'ambiente in cui l'individuo si trova. Quindi al variare delle situazioni ambientali, e come ho detto sappiamo che le condizioni ambientali variano, cambia anche la spinta, la direzione della selezione naturale. E questo può essere particolarmente rischioso se questi cambiamenti sono molto rapidi. Quindi l'esempio principale più usato è quello dell'orso polare. Quindi abbiamo l'orso polare che ha una pelliccia che è perfettamente adattata per vivere in ambienti formati da neve e ghiaccio, ma i cambiamenti ambientali e in particolare quelli molto rapidi che stiamo assistendo negli ultimi anni stanno riducendo l'area di copertura appunto dove vive l'orso polare di neve e di ghiaccio e questo fa sì che la stessa caratteristica che era vantaggiosa in un ambiente rende invece l'orso molto visibile se si trova sulle rocce praticamente. Quindi appunto è importante capire che anche appunto al fine della conservazione degli animali eccetera che l'ambiente è fondamentale per determinare la direzione, la spinta diciamo della selezione naturale. La selezione sessuale invece è un esempio particolare della selezione naturale che è stato di nuovo formulato diciamo da Darwin, questo principalmente unicamente da Darwin, mentre invece per la selezione naturale ci sono arrivati praticamente nello stesso momento Darwin e Wallace che poi hanno inizialmente presentato la loro teoria insieme, che poi Darwin è stato diciamo un pochettino più ricordato, ma Darwin ha anche capito quello che è la selezione sessuale che è quella selezione in cui vengono favoriti caratteri che sono vantaggiosi per la riproduzione a prescindere dal loro ruolo per la sopravvivenza. E generalmente, adesso spiegheremo un attimo meglio, la selezione sessuale nella stragrande maggioranza del mondo animale e anche del mondo vegetale viene fatta ma parliamo più in questo caso del mondo animale, viene fatta dalla femmina sul maschio, quindi è la femmina che praticamente sceglie il maschio. E adesso vedremo tra un secondo anche perché. E questo tipo di selezione porta anche all'evoluzione di strutture molto vistose nei maschi, specificatamente quindi nei maschi. E quindi vediamo in particolare che a volte, in alcuni casi, i maschi vengono scelti per la loro forza e abilità nei combattimenti e questo porta spesso all'evoluzione di quelli che vengono chiamati armamenti. Quindi le corna delle antilopi e gazzelle, i palchi dei cervi, le zanne o artigli particolarmente pronunciati o... scusatemi... e invece un altro tipo di... in altri animali, diciamo, vengono selezionati caratteri particolarmente vistosi, in genere, che vengono chiamati ornamenti e che possono assumere appunto delle forme veramente spettacolari e lo vediamo, per esempio, in moltissimi uccelli dove questa evoluzione degli ornamenti sembra essere stata molto importante. Quindi vediamo, per esempio, questo piumaggio, vario pint di tantissimi uccelli del paradiso che vivono in Indonesia e Nuova Guinea o, diciamo, quello per eccellenza è il pavone. Quindi la coda enorme e brillante dei pavoni. E ci sono due cose da spiegare qua. Uno, appunto, è perché vengono favoriti questi caratteri e il secondo è perché è la femmina a fare la scelta. Ora, per la prima domanda vediamo praticamente che, soprattutto nel caso degli ornamenti, questi, che sono delle strutture molto vistose e molto costose per l'animale da produrre, mostrano, in un certo senso, la qualità del maschio. Quindi, un maschio che è riuscito a sviluppare questi ornamenti, appunto, se pensiamo di nuovo a questa coda enorme del pavone, vorrà dire che sarà un maschio in salute, quindi che non avrà parassiti, eccetera, eccetera, e che è stato anche abbastanza in forza da riuscire, appunto, è bravo, diciamo, da mangiare e nutrirsi a sufficienza per sviluppare queste strutture. Inoltre, c'è un'altra teoria che fa vedere come queste strutture sono spesso uno svantaggio per la sopravvivenza. Quindi, di nuovo, se prendiamo il pavone, questa coda non solo lo rende visibile ai predatori, ma, essendo così enorme, rende anche difficile prendere il volo, praticamente, e quindi i pavoni sono abbastanza goffi quando devono iniziare a volare. Quindi, in questo caso, un maschio che arriva all'età adulta e riesce a sfoggiare questa coda così bella, ma anche così costosa e di impaccio, vuol dire che è un maschio particolarmente bravo e quindi che ha, diciamo, dei buoni geni. Ora, bisogna capire che, ovviamente, questa non è una scelta cosciente. Non è che la femmina di pavone si metta a guardare i pavoni, fa tutto questo ragionamento e poi capisce che allora vuole quello con la coda più ampia. Ma, semplicemente, anche qua ci ricolleghiamo un po' con la selezione naturale, nel senso che quelle femmine che hanno preferito questi maschi hanno effettivamente preferito maschi di buona qualità e quindi hanno prodotto probabilmente, con più probabilità, figli che erano in buona salute e quindi hanno potuto di nuovo sopravvivere e riprodursi. È importante, avranno prodotto figli maschi che probabilmente avranno una bella coda e figli e femmine che più probabilmente preferiranno la coda bella rispetto a una coda brutta. E questo, di nuovo, sul lungo periodo, porta a questa evoluzione di questi caratteri così appariscenti. Tuttavia, non è che in tutti i casi la selezione sessuale porta a queste strutture bellissime. C'è un esempio in particolare che è quella di un pesce abissale che si chiama rana pescatrice degli abissi, quella con il peduncolo che fa da esca, che a volte è luminoso, in cui, in pratica, quella che si vede è la femmina. Il maschio, in realtà, è piccolissimo, è veramente minuscolo e cerca, praticamente, una femmina. Quando la trova, si attacca vicino all'apparato riproduttore femminile e, praticamente, degenera in una sorta di sacchetto che poi la femmina utilizza, diciamo, quando deve riprodursi. Questo ha avuto successo ed è stato favorito perché, appunto, negli abissi è molto difficile trovarsi tra individui della stessa specie. Quindi, questa strategia in cui, una volta trovato, viene mantenuto, diciamo, vicino alla femmina è stata di successo. L'ultima domanda sulla selezione sessuale è perché è la femmina a fare la scelta? E la femmina a fare la scelta, principalmente, sembra, per la tipologia di gameti, quindi delle cellule riproduttive che producono. Quindi, la femmina produce queste... Scusatemi, diciamo dal maschio. Il maschio produce gli spermatozoi che sono molto piccoli e estremamente poveri. Quindi, hanno in sé il nucleo con il DNA, quindi con l'informazione genetica da passare alla generazione successiva, e forniscono poco altro. Mentre, invece, la femmina, oltre ad avere il nucleo, ha una cellula enorme, cellula uovo, e possiamo, appunto, pensare all'uovo degli uccelli, il tuorlo dell'uovo, praticamente, è quello, che non solo ha il nucleo, quindi l'altra metà, diciamo, della informazione genetica che poi si combina a formare l'organismo nuovo, ma ha anche un sacco di nutrimento, pensiamo, appunto, al tuorlo, e un sacco di molecole dentro che guidano le prime fasi dello sviluppo. Quindi, l'uovo della femmina è estremamente più costoso da produrre, e quindi rende quella femmina il sesso limitante, cioè quello che, di nuovo, pensando soprattutto ad animali molto piccoli in cui la spesa per fare un uovo è molto alta, rendono quella che, appunto, può fare la scelta, perché invece i maschi possono produrre un numero molto maggiore dei propri gameti, insomma. Quindi questa è la spiegazione principale per cui, di nuovo, ancestralmente, quando è evoluto questo tipo di riproduzione, si è favorita la selezione da parte della femmina, la selezione sessuale da parte della femmina del maschio, diciamo, di più grande qualità, per farla molto breve. Un ultimissimo meccanismo che volevo solo accennare è quello della deriva genetica, scusatemi. Ah, scusa, c'è una domanda, Filippo, sì. Beh, nel caso, dipende dalle specie, credo. Ci sono, la selezione, diciamo, la domanda, scusate, se le tartarughe terrestri fanno scelte per riprodursi. Dipende un po' dalla specie. Certamente queste scelte rimangono, sono molto variabili, diciamo, e rimangono molto, cioè, diciamo, se la femmina non trova nessuno, trova due maschi, sceglierà tra quelli che ci sono. Dipende dalle specie di animali, questo. Però, comunque, in molte specie funziona così. Nel tartarughe non credo ci sia comportamenti di selezione sessuale particolarmente forti, ma non ne sono sicurissimo, devo dire. Però, appunto, c'è sempre un qualche tipo di scelta che a volte è più visibile, nel senso che abbiamo questi combattimenti o questi maschi particolarmente vistosi, eccetera. In altri casi è un pochettino più sottile. Ma la terza cosa, scusate, di cui volevo parlare è la deriva genetica, che è abbastanza complicata, ma volevo semplificarla dicendo che sono quegli eventi casuali che, diciamo, possono favorire o sfavorire, in genere sfavorire la sopravvivenza, che appunto, a prescindere dall'adattabilità di un animale. Quindi, se pensiamo, un esempio molto banale, a una farfalla che è perfettamente adattata all'ambiente in cui si trova. Tuttavia, se per caso arriva, di nuovo, una grandinata o un... che è, appunto, un evento, diciamo, raro in quell'ambiente, o un collezionista di farfalla ai tempi di Darwin che va e se la prende, questo, diciamo, prescindere da quanto sia ben adattata, non passerà ai propri geni nella generazione successiva. Ma la cosa principale, scusate, della deriva genetica è importante, di nuovo, per la conservazione. Quindi, perché questi effetti di animali che, appunto, per caso non trasmettono i propri geni nella generazione successiva, ha degli effetti molto grossi su popolazioni piccole. Quindi, se da una popolazione enorme togliamo un piccolo numero di individui, la variabilità, la varietà, scusatemi, di forme, di caratteristiche rimane comunque nella popolazione da cui questi individui provengono, rimane molto alta. Mentre invece, se da una popolazione di dieci individui vai a toglierne uno o due, hai un impatto molto molto alto sulla diversità della popolazione. E quindi, quando si va a conservare, a cercare di proteggere la specie dall'estinzione, si cerca sempre di mantenere il numero di individui più alto possibile e di evitare gli incroci tra organismi imparentati. per mantenere la diversità e quindi la capacità di adattarsi a vari cambiamenti ambientali il più alto possibile. Questo è la cosa principale, sono i tre meccanismi, diciamo, principali che guidano l'evoluzione. Però, la cosa fondamentale su cui volevo soffermarmi nella seconda parte del discorso è qual è appunto la base dell'evoluzione. Cioè, che cos'è che da una generazione all'altra cambia e che permette, diciamo, quindi agli organismi di evolvere? Quella risposta alla domanda è il DNA. Il DNA, che è quella molecola contenuta nei nuclei di tutte le nostre cellule, che contiene le informazioni per costruire praticamente il nostro corpo. Più nello specifico, il DNA contiene delle informazioni per costruire delle proteine, proteine che sono poi quelle che vanno sia a costruire e a svolgere la grande maggioranza delle funzioni del nostro corpo, insomma. Quindi, il DNA ce lo possiamo immaginare come questa lunga molecola formata da tantissimi mattoncini che si chiamano nucleotidi e ci sono delle zone di queste, delle sequenze di questi mattoncini all'interno del DNA chiamati geni che contengono l'informazione per formare una proteina che poi avrà una sua funzione nell'organismo. Ma ci sono tre caratteristiche del DNA che lo rendono appunto la base diciamo dell'evoluzione. La prima e la più importante è la capacità di replicarsi. Quindi, il DNA praticamente è in grado di far creare delle copie di se stesso e questo è è fondamentale cioè ogni volta che una cellula si divide il DNA all'interno si duplica e va a finire nelle due cellule figlie. Allo stesso modo ogni volta che due organismi si riproducono metà del loro patrimonio genetico va a fondersi e formare quindi il DNA dell'embrione quindi del nuovo organismo che si svilupperà. Quindi, è il DNA che passa da una generazione all'altra non è la caratteristica in sé l'individuo soprattutto nella riproduzione sessuata in cui abbiamo la mescolanza appunto di metà del patrimonio paterno e metà del materno l'individuo e sono tutti i figli sono sempre diversi dai genitori quindi quello che passa è l'informazione contenuta nel DNA e passa solo grazie alla capacità del DNA di continuare a fare copie di se stesso. Ora, la seconda caratteristica che è molto collegata alla prima è la capacità di commettere degli errori quindi se il DNA continuasse a replicarsi in maniera perfetta saremmo praticamente diciamo tutti uguali ma il punto fondamentale è che spesso cioè non è vero molto raramente in realtà quando il DNA viene duplicato nella sequenza di mattoncini appunto del DNA vengono introdotti degli errori quindi questi mattoncini sono di quattro tipi A, T, C e G e sono in queste sequenze lunghissime e ogni tanto viene inserito diciamo nella copia un mattoncino sbagliato rispetto a quella precedente questo evento è chiamato mutazione e che è quindi una cosa diciamo naturalissima e che permette di creare diversità tra le varie copie del DNA ed è in realtà la mutazione l'unico modo con cui si possono creare nuove nuovi geni praticamente nuove nuovi tipi di proteine nuove nuove molecole quindi nuova informazione tuttavia sappiamo che appunto questo dicevo è un processo naturale ed è un processo casuale quindi non possiamo capire sapere dove avverrà l'errore tuttavia è anche un processo che può essere indotto quindi abbiamo sostanze chimiche per esempio il fumo o onde come appunto i raggi X e i raggi UV che possono appunto danneggiare il DNA e formare e introdurre questi errori ora molto spesso questi errori portano a cose a degli svantaggi quindi proteine che non funzionano eccetera ma il punto dell'evoluzione è proprio che a volte a partire da questa diversità che è appunto diciamo casuale sia la selezione naturale che invece non è assolutamente casuale come spiegavamo prima ha una precisa direzione a seconda dell'ambiente e che va quindi a scremare a dire questa mutazione in questo particolare ambiente è favorevole oppure no e la terza e ultima cosa molto rapidamente è che questa sequenza di ATCG può essere in qualunque ordine e più o meno in grandezze diverse quindi ci sono praticamente infinite possibilità di assemblaggio quindi questo rende possibile la formazione di tantissime proteine tantissime quindi molecole che si trovano nel nostro corpo che possono svolgere tantissime funzioni differenti quindi queste sono le tre cose principali caratteristiche principali che rendono il DNA che rendono possibile l'evoluzione che rendono il DNA la base dell'evoluzione quindi la prima capacità sicuramente di replicarsi quindi l'origine di una molecola che viene chiamata appunto replicatore come il DNA è fondamentale per l'origine della vita e poi anche però la capacità di introdurre degli errori che quindi possono far introdurre varietà che poi viene appunto selezionata e la cosa che si possono appunto avere tantissime combinazioni diverse quindi da tutto questo si capisce diciamo che come ho detto è il DNA l'evoluzione agisce praticamente sul DNA sui singoli geni che vengono selezionati o meno in base al successo delle funzioni che contengono come informazione quindi se l'informazione contenuta in quel particolare pezzo di DNA è vantaggiosa probabilmente se non interviene la deriva genetica e il cacciatore del collezionista di farfalle verranno si espanderanno nella popolazione mentre invece se è svantaggiosa la proteina non funziona e non lo so se l'animale ha un problema a digerire allora probabilmente quell'animale non sopravviverà e quindi non trasmetterà quel gene alla popolazione successiva questo ci dice anche molto importante ed è quello che viene ormai considerato dalla maggior parte degli scienziati che l'evoluzione agisce sul singolo gene non agisce quindi come viene spesso detto per il bene della specie è vero che sul lungo periodo quello che succede è che spesso quello che viene mantenuto è la popolazione di quella particolare specie ma l'evoluzione gli individui diciamo non agiscono per il bene della specie ma per il bene diciamo dei propri geni quindi se un individuo di una popolazione di animali riesce a riprodursi e sopravvivere a vantaggio di un altro della stessa specie in genere lo farà sicuramente e inoltre anche degli esempi in cui vediamo qualcosa che sembrano diciamo farci pensare a di nuovo il fatto che gli individui pensino al bene della specie si può ricondurre alla selezione del gene quindi per esempio tantissimi erbivori pensiamo alle zebre e gli gnù nella savana si radunano in questi grossi branchi perché questo porta più protezione diciamo per la popolazione in cui si trovano ma quello che si è visto è che quello che succede è che in genere la che in genere scusatemi quello che si è visto è che il il singolo gnù o la singola zebra all'interno della popolazione all'interno del branco ha molta meno probabilità di essere mangiato rispetto che se si trovasse da solo quindi in generale quindi quelli che hanno scelto di radunarsi in branco saranno sopravvissuti di più gli altri che saranno scelto nelle popolazioni ancestrali di zebra di stare da soli saranno stati mangiati dai carnivori di turno e quindi questo appunto è per far capire che l'evoluzione agisce a livello dei singoli geni ma può portare e spesso porta a comportamenti che sembrano che noi ci pagano appunto altruisti Daniele ma la ci sono però delle eccezioni cioè ci sono delle eccezioni che però appunto ci sono quelli che confermano la regola come si dice e che anzi ci mostrano ancora di più quanto l'importante è il DNA ci sono delle eccezioni in cui negli organismi sacrificano la propria la propria riproduzione e anche spesso la propria sopravvivenza per aiutare per aiutare qualcun altro quindi questo all'inizio era stata vista come una come contro contrario a questo questo procedimento che vi ho appena spiegato ma quello che si è visto è che viene questi individui diciamo sacrificano la propria riproduzione per aiutare in genere quella di un parente e questa si chiama infatti selezione di parentela e per spiegarla si utilizza in genere il caso delle formiche e delle api quindi questi insetti sociali hanno questa struttura della società a caste in cui praticamente abbiamo una casta che era delle operaie che non si riproduce e passa tutta la vita ad aiutare la regina e appunto a permettere la riproduzione della regina che poi diventa quindi totalmente dipendente dalle attenzioni delle operaie si è visto che questo ha successo perché perché le operaie sono tutte o sorelle o figlie della regina e quindi condividono metà dei geni media diciamo con la regina stessa quindi di nuovo non con un comportamento cosciente ma durante l'evoluzione di questi gruppi di animali quelli in cui questa casta ha diciamo sacrificato la propria riproduzione per aiutare i geni i propri stessi geni che erano contenuti nella regina ha avuto molto successo infatti le formiche le formiche soprattutto ma anche le api sono animali che hanno successo molto elevato un altro esempio un pochettino più vicino dei noi vertebrati vediamo che molti uccelli un figlio soprattutto le figlie femmine rimangono per un anno dopo che raggiungono la maturità nel nido ad aiutare i genitori ad allevare il nuovo pulcino e si è visto che questa strategia aumenta di molto la probabilità di quel pulcino di sopravvivere e quindi riprodursi quindi anche in questo caso abbiamo una selezione in cui viene sacrificata per un anno in questo caso solo quindi meno estremo delle formiche operaie la riproduzione per favorire di molto quella dei parenti che possiedono scusatemi del fratello o della sorella che possiedono metà dei geni bene questo diciamo erano le cose più generali di cui volevo parlarvi e quindi di come noi possiamo utilizzare queste conoscenze dell'evoluzione e specialmente quella appunto sul DNA quindi sulla base diciamo dell'evoluzione per un po' ricostruire la storia della vita sulla terra praticamente quindi come sono evolute nelle diverse linee evolutive e che è più quello che mi diciamo interessa e che studio personalmente io tuttavia negli ultimi 5 minuti volevo parlare un secondo del fatto che queste conoscenze hanno anche dei risvolti pratici molto importanti ho già accennato quello della conservazione quindi per la conservazione delle specie minacciate è fondamentale capire queste dinamiche evolutive per prima di tutto valutare lo stato della popolazione di quella specie quindi quanto è a rischio e poi per elaborare delle strategie e fare anche dei modelli per capire delle previsioni praticamente per capire cosa succederà in futuro se continuerà in una certa traiettoria o se facciamo questo o quest'altro intervento eccetera eccetera le ultime due applicazioni di cui volevo parlare sono sul cancro e sullo studio dei virus che insomma diciamo ci riguarda un pochettino più da vicino in questo momento per quanto riguarda il cancro non lo volevo solo accennare perché ne hanno parlato comunque due settimane fa Ilaria e Giulia quindi non volevo solo ripetere come studiando il cancro si è visto che ci sono dei parallelismi molto importanti con l'evoluzione in particolare noi sappiamo che il cancro è questa massa di cellule che è il nostro corpo che si divide senza controllo e quindi si espande senza controllo e questo rende difficile in alcuni casi avere delle cure dirette proprio perché sono comunque cellule del nostro corpo e tuttavia il punto principale è che il nostro sistema immunitario è estremamente bravo a proteggerci da varie minacce compresi le cellule che impazziscono Michela sì questa è una cosa molto importante finisco questo discorso qua e poi ne parlo sicuramente perché è interessante sì praticamente abbiamo scusate dicevo quindi questa massa che si queste cellule che vanno fuori controllo e in genere il sistema immunitario riesce a distruggere in molti casi durante la nostra vita delle cellule del nostro corpo impazziscono il sistema immunitario arriva e le distrugge quando alcune volte appunto invece non riesce a farlo immediatamente il punto è che avviene all'interno del tumore in cui queste cellule continuano a dividersi il DNA continua a duplicarsi a cambiare a accumulare errori quindi abbiamo tutte cellule una diversa dall'altra si ha una sorta di selezione quindi ci vengono favorite perché sopravvivono quelle cellule che hanno una qualche caratteristica in mezzo a questa diversità di cellule che gli permette di essere resistente al 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 sistema immunitario e quindi quello che succede nei tumori dopo un po' di tempo soprattutto nei tumori con le metastasi è che proprio queste cellule sono state selezionate da questo meccanismo naturale per essere resistenti al nostro sistema immunitario e quindi sono più difficili da eradicare quindi conoscere queste dinamiche infatti che sono oggetto di molti studi è importante per elaborare delle strategie per combatterlo diciamo quindi per combattere il cancro nel caso dei virus invece che appunto come ho detto riguarda il testo che siamo in questo periodo i virus hanno una cosa un po' particolare nel senso che non sono considerati propriamente degli esseri viventi perché non sono formati da cellule sono questi diciamo sacchetti molto molto semplici sacchetti di proteine con dentro dna o rna che non possono fare praticamente nulla da soli ma attaccano altre cellule e possono essere cellule nostre animali cellule vegetali quindi delle piante cellule batteriche quindi tantissimi virus risorse della cellula per per appunto praticamente moltiplicarsi e poi quando la cellula generalmente la cellula esplode e i virus vanno dappertutto o comunque vengono rilasciati e vanno dappertutto per la cellula e i virus vengono rilasciati e 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 il virus e vengono rilasciati e vengono rilasciati per cui alcuni virus che non hanno queste abilità diciamo che vengono riconosciuti più facilmente dal sistema immunitario una volta che sono riconosciuti il sistema immunitario se lo ricorda in altri casi cambiano così velocemente così tanto che è difficile per il sistema immunitario ma potrebbero esserci altre motivazioni che non conosco bene, detto questo sono più o meno in tempo vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato quindi aprirei le domande volevo appunto parlare della domanda che mi ha fatto Michela prima la mia domanda era se un trauma può essere considerato un bias che incide sul DNA e sulla trasmissione delle generazioni successive questo è un argomento abbastanza recente su cui si sta lavorando molto praticamente sembra che il punto principale della teoria di Darwin e di come era diversa da quelle che c'erano alcune di quelle che c'erano al tempo è proprio il fatto che alcune teorie dicevano che durante la vita tu accumuli delle modificazioni che poi vengono trasmesse alla generazione successiva quindi l'esempio più semplice è uno fa palestra quindi è muscoloso trasmette questa cosa alla generazione successiva questo non è non è così e Darwin appunto mostra invece come quello che vengono che viene trasmesso sono le le lui non diceva il DNA perché non lo conosceva ma sono le caratteristiche che vengono ereditate dalle generazioni precedenti non che si sviluppano diciamo durante la vita dell'organismo però ultimamente si è visto che ci sono delle modificazioni non tanto nella sequenza del DNA ma in diciamo in alcune nella per farla molto breve nella sorta di forma del DNA o del tipo di molecole che sono attaccate al DNA che sembra possa in alcuni casi venire trasmesso da una generazione all'altra c'è stato uno studio particolare che faceva vedere questo che ha iniziato tutto questo discorso che faceva vedere come davano a queste mosche un po' di etere se non mi sbaglio quindi che insomma non erano contente le stressavano e si era visto che dopo tante generazioni e questo etere causava delle modificazioni al DNA e si era visto che dopo qualche generazione alcune di queste sembravano sembravano essere mantenute anche in assenza di etere quindi che erano già lì ora questo è molto è una cosa su cui non si sa tantissime tantissimo però sembra che ci siano alcune modificazioni del DNA che possono passare a una generazione successiva ma la cosa principale è che non si sa e non sembra che siano particolarmente importanti sul lunghissimo periodo perché a seconda poi della vita di quella persona o di quell'animale queste modificazioni possono a loro volta cambiare di nuovo quindi non si sa se vengono mantenute per così tanto tempo da essere assolutamente importanti diciamo per la dal punto di vista evolutivo per l'evoluzione di nuove specie praticamente e quindi sì questo durante la guerra c'erano alcune popolazioni mi sembra della Polonia in cui c'era questo stato di povertà assoluta e questo aveva portato a delle quindi la carenza di cibo eccetera aveva portato delle modificazioni di nuovo nel DNA della madre ma non nella sequenza del DNA proprio diciamo nella sua organizzazione in come di molecole che erano legate al DNA che si era rispecchiata poi nei figli però di nuovo poi nella generazione successiva non più quindi era una cosa molto variabile e ok Ila mi chiede ci sono tante persone che ancora oggi pensano che l'evoluzione non sia vera e quali sono quindi le prove che si possono portare a favore ora grazie ora ci sono appunto varie varie prove diciamo che i fossili sono la più famosa e anche una delle più importanti perché sono proprio tangibili noi possiamo vedere animali le cui forme non ci sono più che non si trovano più ma molto importanti i fossili sono esattamente nella ordine che ci aspetteremo quindi se semplifichiamo diciamo che più va in profondità nella roccia più i fossili sono antichi vediamo che effettivamente vediamo apparire le forme di animali come ce le aspetteremo e c'era questo famoso biologo Aldein che dice che gli avevano chiesto cos'è che ti farebbe smettere di credere nell'evoluzione e lui ha risposto tipo conigli fossili nel Cambriano che è questa epoca antichissima in cui non c'erano mammiferi quindi non c'erano conigli o il ritrovare un fossile di un mammifero in una roccia proveniente da un'epoca precedente all'apparizione dei mammiferi sarebbe un disastro ma da tutti questi anni abbiamo sempre trovato i fossili nel giusto ordine diciamo però i fossili non sono l'unico sono preziosissimi ma non sono l'unico l'unica prova ce ne sono svariate altre ma quella più importante è proprio il DNA cioè noi possiamo comparare il DNA di diversi organismi e vediamo che la loro quanto sono diversi l'uno dall'altro riflette proprio la nostra vicinanza evolutiva prima di tutto funzioniamo tutti gli esseri viventi alla stessa maniera quindi con DNA RNA e proteine ma il punto è che proprio se noi guardiamo il nostro DNA e quello di una scimmia uno scimpanze sono più simili tra di loro rispetto al DNA del nostro e di un trota e questi alla loro volta sono più simili tra di loro di quelli tra il nostro e quello di un millepiedi quindi sono esattamente come noi ci aspettiamo praticamente che sia evoluta gli animali ma allo stesso tempo possiamo fare lo stesso discorso sulle piante sui funghi su batteri un po' più difficile ma vabbè comunque il punto principale quindi il DNA anche in assenza di fossili il DNA essendo la base dell'evoluzione è anche proprio la testimonianza più importante che abbiamo insieme ai fossili direi per capire poi ci sono varie altre piccole diciamo dimostrazioni per esempio una che su cui Darwin si è soffermato una è l'evoluzione artificiale quindi quella che noi abbiamo fatto dei cani per esempio o Darwin allevava questi colombi e incrociava questi diversi razze di colombi e vedeva appunto come possiamo modificarli e passare appunto da un lupo a un beagle a un chihuahua e utilizzando gli stessi principi ma facendo una selezione più rigorosa e più veloce insomma o si è riuscito allo stesso modo in Russia è uno studio molto lungo è riuscito praticamente a creare delle volpi domestiche nell'arco di una trentina di anni un po' di più forse la cosa interessante di quello studio tra l'altro era che quelle volpi non solo erano mansuete loro hanno selezionato solo per volpi più mansuete ogni generazione ma quelle volpi erano anche più simili ai cani delle volpe selvatiche quindi questo significa che selezionando quei caratteri del comportamento quegli stessi geni quindi la stessa parte del DNA che controllavano il comportamento probabilmente erano coinvolte anche nella colore della pelliccia nella forma delle zampe che quindi possiamo rivedere più o meno nelle volpi perché sono già di loro molto simili ai cani quindi questo non si può fare con un gatto ma con le volpi si può rivedere più o meno anche cosa potrebbe essere successo durante la domesticazione del cane e queste sono appunto le principali l'arte di Darwin scusatemi la biogeografia quindi guardando la distribuzione degli animali questa si spiega dal fatto che un gruppo di specie derivi da una specie precedente quindi per esempio abbiamo gli uccelli non volatori come gli struzzi gli emui nandu e alcune specie estinte questi sembrano derivare tutti da un'unica specie da un'unica specie ancestrale che si trovava nel continente mega continente nel passato e comprende adesso Sud America Africa e Australia e India e poi si è insomma con la distaccamento dei vari continenti sono evoluti indipendentemente nei diversi continenti di queste specie di uccelli da partire dall'antenato comune e poi l'ultima cosa scusatemi ovviamente è che noi abbiamo anche esempi oltre alla associazione artificiale in cui possiamo vedere appunto quello di cooperato dei virus noi possiamo vedere i virus che cambiano possiamo vedere i batteri che cambiano parlando di magari una cosa più con cellule possiamo vedere i batteri che cambiano e che diventano resistenti agli antibiotici questo è appunto tanto quanti fossero una prova visibile tangibile diciamo dell'evoluzione grazie no grazie mille se ci sono altre domande se no siamo praticamente giusto in tempo quindi spero di essere stato chiaro e non troppo rapido e no vi ringrazio davvero tutti per l'ascolto e ringrazio di nuovo Engaged Academics per avermi come ho detto coinvolto in questo bellissimo progetto e appunto vi invito a seguirlo per seguire la pagina per quelli che verranno nelle settimane successive e no come ho detto di nuovo grazie mille a tutti e sì direi allora di chiudere perché appunto se no la diretta ha una lunghezza fissa e niente grazie ancora davvero a tutti e buona giornata e niente teniamo duro in questo periodo e grazie ancora davvero ciao ciao ah comunque la diretta rimarrà scusatemi sul profilo per 24 ore giusto per per dire se non faccio qualche stupidata qua grazie buona serata grazie grazie Grazie.